Stai mangiando a fondo? E se non li apri più? Tu pensi che paura? Invececi. Ma che sti cazzo mi chieda? Si ferma eh. Eh, però non ne piega, capito? Questa è la cosa bella. Sto facendo verso il passato. Ti preoccupate. Io penso che paura esiste. Non lo so. E' molto vispo eh. E l'ho tirato abbastanza... Vedete che manco la frizione e ce la fa partire? Ma è una cosa io sto facendo appositamente, capito? Eh no, no, buoni sono. Gli ami sono buonissimi, eccezionali. E dovrebbe superare quella frizione che è tarata, pensa a più di 20-10 kg però. Tanto sarà 20 kg, visto che essere 18 kg che fanno parte. La bacca è gelato, cucina. E' fermo, guarda, guarda, guarda. Non mi dire. Una spatola. È vero. Eh, siamo picchiati. No, eh, aspetta, 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 aspetta. E' bell'una però. Come faceva ora, Sirio? Aspetta un attimo. Lo potresti prenderli in cima, stavola. Sono chiamato pure io, però non so come devo fare. Vedi se mi puoi... Sì, mi tagli a questo filo, Sirio. E come vuoi chi hai? Perché ci passava un tabù. Mannaya, madosca, buttano pure gli ami ti ha macinato. Una bestia era. Ma manciavo pure a mia. Minchia, guarda qua, Sirio. Bastarda della colonna, guarda. Sì, ma tu guarda che c'è qua. Rosario, che ci posso fare, Gioia? Che coppamento. Tu mi hai curato la spadola, la spadola. Ma non è la questione che ti ho curato la spadola. Questa è questa per droghi. E che coppamento. Tu guarda tanto della stessa droghi, Rosario. Ma è finita a mare tutte le cose. Tutte cose, tutto, porca era. Non è una tosca, va. Non è una tosca, va.